Oggi parliamo delle strutture ricettive per soli adulti. Ciao sono Alessia e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo per l'appunto delle strutture ricettive che accettano solamente una clientela adulta. E questo non significa che si tratta di alberghi a luci rossa, assolutamente no, ma semplicemente non vengono accettati i bambini. Per il resto sono delle strutture ricettive normalissime. L'idea di questo video è nata da un articolo del Sole 24 Ore di quest'estate 2019. Dovete sapere che io ho un rapporto di odio-amore con i giornalisti perché a volte si impegnano a scrivere delle boiate, anche se questo articolo comunque è partito col piede giusto e poi ha preso una piega errata, però diciamo che non ha esagerato più di tanto. Il punto è questo, le persone non conoscono il mondo del turismo, ci sono molti meccanismi che non vengono compresi. Basta pensare il fatto e dire ok, io sono arrivato a lunedì notte, quindi questa notte non la parlo. Se si sta in recesso si sente veramente di tutto e di più. L'unica cosa è che nel momento in cui una persona va a leggere un articolo del genere si fa un'idea totalmente sbagliata di quelli che sono gli hotel presso gli adulti. E ci tenevo anche io a dare una mia opinione e parlarne magari insieme a voi. In descrizione troverete il link all'articolo perché è giusto che possiate leggerlo e avere anche voi un'opinione a parte, però leggerò qualche trafiletto qui durante il video. L'articolo parte spiegando che ci sono più di una cinquantina di strutture in Italia che ormai hanno adottato questa policy. Quindi praticamente le strutture presso gli adulti sono sempre di più che in Italia sta attecchendo questa nuova tendenza, anche se secondo me è sbagliato definire la tendenza, in quanto all'estero ormai è la normalità avere dei ristoranti, dei strutture recitivi, comunque dei luoghi dove i bambini non sono ben accetti. In Italia è un concetto che ancora non viene ben compreso. In questo articolo vengono riportate le parole dello psicologo Stefano Benemeglio, il quale è fondatore dell'omonima Università Popolare delle Discipline Analogiche, il quale dichiara che i genitori che scelgono questa opzione, quindi partiamo subito puntando ai genitori, quindi questi strutture che vengono scelti dai genitori, potrebbero perdere qualcosa di fondamentale per la crescita dei propri figli e per loro stessi. E poi spiega che comunque la vacanza in famiglia è un momento formativo e ci sta anche perché ci sono dei benefici nel fare una vacanza in famiglia. La parte che mi ha fatto poi iniziare a far storcere il naso è questa. Ci può stare che all'interno di un villaggio a vacanze ci sia anche un'area riservata per chi vuole stare un momento in tranquillità. Ma il fatto che i bambini siano ghettizzati e vi siano intere strutture solo per adulti è preoccupante. E qui mi parte l'embolo perché già dei bambini ghettizzati è un'esagerazione. Poi addirittura che ci siano intere strutture ed è preoccupante, qui è ancora peggio. Inoltre è bene meglio, sottolineo il fatto che stanno aumentando le persone che si lamentano della maleducazione dei bambini. e praticamente la situazione è peggiorata e è come se sia diventata una moda dire che i bambini sono maleducati. E quindi che non è normale che ci sia un'intolleranza verso i bambini. Ora, una cosa che io dico sempre è che è preoccupante quando un hotel non capisce che tipo di clientela ha e quindi quali servizi offrire. Ci sono quegli hotel che vogliono tutti, non fanno una distinzione e quindi qualcuno resterà scontento. Anzi, invece è meglio che ci siano quegli hotel che capiscono quali tipo di servizi possono offrire e si rendono conto che non possono aiutare le famiglie con i bambini. Ci sono un sacco di famiglie che prenotano basandosi semplicemente sulle foto, sulla località senza rendersi conto se effettivamente quell'hotel sia o meno adatto alle loro exigenze. Ad esempio mi è capitato di vedere la mentele su delle camere che avessero le scale con tutto che magari veniva segnalato in fase di prenotazione. però è assurdo, i bambini si fanno male mio figlio va lì, cade, muore, tutto quanto io capisco la preoccupazione dei bambini ma tu non puoi dare per scontato che ogni camera sia al piano terra e che non abbia un soppalco o quant'altro oppure che il menu di mezza pensione sia adatto anche a dei bambini oppure può capitare che magari una persona non ha figli o ha dei figli grandi e si trova accanto una coppia con un bambino piccolo e purtroppo piange tutta la notte di certo non si possono fustigare i genitori tantomeno il bambino perché è poveretto quello fa il suo compito è piangere e poi che cosa facciamo? giustamente gli altri vogliono riposare magari credo anche un cambio camera ma non sempre è fattibile perché a volte le strutture sono piene magari parliamo di pieno agosto e che cosa facciamo? quelle persone continueranno ad avere un sonno disturbato la notte ovviamente le strutture dovrebbero organizzarsi per rendere le camera insonorizzate però sappiamo benissimo che molti non ci pensano nemmeno non vogliono affrontare questa spesa quindi chi se ne frega però io l'anno prossimo se ho avuto questo problema ci penso due volte e quindi magari opto per una soluzione del genere di un hotel per soli adulti o comunque una struttura ricettiva così la cosa però più importante da sottolineare tutti hanno figli? no, non tutti sono genitori non tutti gradiscono la presenza di bambini e soprattutto sì molti bambini sono maleducati non ci sta niente da fare ma non perché i bambini sono maleducati perché i genitori li lasciano liberi senza controllo magari non gli dicono che il reception devono stare lì a urlare mentre un receptionista sta facendo un check-in io per esempio amo tantissimo i bambini però mi sono trovata in situazioni in cui i genitori hanno totalmente abbandonato questi bambini alla reception questi che facevano di tutto tra l'altro ti preoccupavi pure che si facessero male perché i genitori si erano allontanati però intanto avevi il tuo lavoro da fare il telefono che squilla il collega che ti chiama il check-in da fare e così via però a parte coloro che non hanno figli o che non ne vogliono ci sono anche quei genitori che magari hanno già fatto una vacanza con i figli oppure hanno i figli al campo estivo o i figli che lo sappiamo benissimo che a una certa età con i genitori non vogliono viaggiare più oppure che semplicemente hanno bisogno di ricostruire il rapporto di coppia perché a volte succede che ci si fa prendere talmente tanto dai figli da non pensare più alla propria coppia quindi magari si rende conto si dice ok partiamo tre giorni una settimana noi da soli e cerchiamo di ricostruire il nostro rapporto inoltre nell'articolo viene spiegato che in Italia questo tipo di strutture stanno avendo numerose consenze sempre che col passare del tempo o passare degli anni ci sarà sempre più richiesta ora se la domanda c'è siccome viene scritto nell'articolo le persone sono disposte a pagare di più non solo per le strutture ricettive ma anche per i voli senza bambini perché io hotel non devo sfruttare questa occasione e soprattutto chi sei tu per giudicare me genitore della scelta che ho fatto di non fare una vacanza con i miei figli magari io ci sto H24 360 giorni l'anno 5 giorni l'anno invece decido di andare in vacanza con il mio compagno o con la mia compagna i punti sono due prima di tutto una struttura ricettiva come dicevo prima deve sapere chi è il suo cliente tipo chi è la sua baia persona e quindi quali sono i servizi che può offrire per rendere contento il suo cliente d'altra parte il cliente a volte non sa quello che vuole e quindi va a finire una struttura che non è adatta alle sue esigenze magari una coppia di suoi adulti che vorrebbero un hotel no kids invece si trova in un hotel per famiglie e così non va bene perché avranno schiamazzi invece poter stare a bordo piscina nel totale silenzio e relax magari con della musica lounge no invece non si può fare perché c'è l'animazione e c'è l'acqua gym c'è il bambino col pallone e quant'altro quindi è importante anche da parte nostra come clienti informarci fatemi sapere che cosa ne pensate di questo tipo di strutture ricettive se siete d'accordo o meno quindi vi aspetto nei commenti se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto besos